Nel 1808 il chimico inglese John Dalton osservò che le sostanze elementari non si possono scomporre in sostanze semplici. La materia che ci circonda infatti può essere suddivisa in porzioni sempre più piccole, fino a quando le sue proprietà chimico-fisiche rimangono inatterate. Quindi si può suddividere la materia fino a degli elementi microscopici che conservano le proprietà chimico e fisiche di quella stessa sostanza che vediamo a livello macroscopico. Poi ovviamente con la tecnologia del 1800 non si poteva fare di più. Quindi cosa disse Dalton? Che la materia è fatta da particelle piccolissime e indivisibili e lui le ha chiamati gli atomi. Ovviamente la parola atomo all'epoca significava qualcosa di indivisibile, in realtà poi vedremo che non è così. Però ovviamente siamo nel 1800 e quindi vediamo con quella tecnologia, con quella conoscenza scientifica, cosa si poteva sapere della materia. Si poteva sapere che in una reazione chimica delle sostanze definite reagenti possono reagire per formare un'altra sostanza, però questa sostanza chiamata prodotto in realtà è la combinazione di questi reagenti. Quindi in una reazione chimica le particelle scompaiono per formare una nuova sostanza, ma il numero di particelle totali tra reagente e prodotti non varia mai. Nulla si crea e nulla si distrugge. Dalton inoltre definisce quattro caratteristiche di un atomo. Gli atomi dello stesso elemento sono tutti uguali tra loro. Gli atomi sono indistruttibili, ovviamente con la tecnologia di oggi e con le conoscenze di oggi sappiamo che non è così, però per l'epoca erano elementi indistruttibili. Atomi di elementi diversi hanno massa e caratteristiche diverse, quindi gli elementi chimici diversi differiscono per una diversa massa e per diverse caratteristiche chimiche e fisiche, che poi si possono riflettere anche a livello macroscopico. E infine i singoli atomi possono combinarsi in composti di atomi, le molecole. Facciamo un esempio. HCl, acido cloridico, che reagisce con la soda NaOH per darmi NaCl più H2O. Che cosa è successo? Vediamo meglio questa lezione chimica visualizzando gli atomi. HCl, un atomo di cloro e uno di idrogeno, che reagiscono con un atomo di sodio e uno di ossigeno di idrogeno, e mi formano l'atomo di cloro e quello di sodio, che in realtà sono questi due, mentre l'ossigeno e i due idrogeni mi vanno a formare l'acqua. Come vedete, gli atomi sono sempre gli stessi tra le agenti e i prodotti, hanno solamente cambiato loro combinazioni. Quindi noi macroscopicamente cosa vediamo? Vediamo che sparisce l'acido cloridico e sparisce anche la soda caustica. Però vediamo che nei prodotti troviamo del sale e dell'acqua. Non è stata distrutta della materia. Semplicemente l'acido cloridico e l'NaOH, la soda, si sono smontati e si sono ricombinati a formare sostanze diverse. Il sale da cucina, l'NaCl, e l'acqua. Questo fenomeno avviene anche quando i rapporti di reazione non sono uno a uno come questi. La strigometria delle reazioni chimiche, che abbiamo già visto alla fine della lezione precedente, rispettano il modello atomico di Dalton. Infatti, vediamo quest'altro esempio. 2H2 più O2 che mi danno 2H2O. Visualizziamo questa reazione con gli atomi, quindi due molecole biatomiche di idrogeno, quindi quattro idrogeni, che reagiscono con una molecola biatomica di ossigeno, quindi due atomi di ossigeno, che mi formano due molecole di H2O. Quindi una molecola H2O più un'altra molecola H2O. Come vedete, i valori stecchiometrici rispettano e riflettono quello che succede a livello atomico. Il rapporto di reazione è 1 a 2 e il rapporto di prodotti sono 2 a 2 con 1 a 2. E quindi, ovviamente, anche in questo caso, gli atomi per costruire le due molecole d'acqua non sono fuoriusciti da nulla, ma derivano dagli atomi che ho ottenuto smontando le molecole dei due gas che hanno reagito. Quindi, di conseguenza, anche qui, come vedete, non si crea e non si distrugge nulla. Questo è solamente un estratto della lezione completa. Nella lezione completa parlerò del modello atomico di Dalton, del numero e della massa atomica, dei vari orbitali in cui è suddiviso la nuvola elettronica dell'atomo e anche dell'esperimento di Rutherford. Potete trovare la lezione completa, la numero 2 del mio corso di chimica, l'atomo e la configurazione elettronica sul mio canale YouTube e sulle mie pagine Instagram e Facebook Prof. Antonio Loiacono. Grazie.